Siamo certi, siamo certi, non abbiamo i pezzi, non è un giro, ma continuiamo a sapere che le persone che faremo i tre quadri, queste mani, se voglio di fare, se voglio di fare, se voglio di fare, se voglio di fare, io devo dire che la gente è così, grazie, è una stessa, è una stessa, è una stessa, è una stessa, qui, no, stiamo parlando di Met且, è una stessa, è un porto, se devi forme, mi preoccupo è di fare, se devi fare, nodi, turnare e camheartedò, davi un pepello, davi un pepello, davi un pepello, darei un pe место, mmm, no, no, bello reduцо, ma io pensavo che gli di qui ero un pepello grande, invece lei questo è un po' nel bello grosso grosso vai 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 mi dicono che l'amore va percibile ma allora si può allaccare i bici pagati pure i fiori sono il peccato allora i fiori possono andare l'uomo di Pasqua secondo me è sbagliato il percorso con la bici come è bello far l'amore da tu gli altri ciao ciao ciao